Buongiorno mister, un piccolo commento sulla partita di oggi e sul pareggio? Altri due punti buttati per strada, ci stiamo suicidando con le nostre mani, continuiamo a sbagliare i gol già fatti, secondo tempo abbiamo stradominato la partita, però non riusciamo a fare i gol, tutto uguale. Grazie mille. Buongiorno mister, un piccolo commento sul pareggio di oggi e la partita di oggi? Abbiamo giocato contro un'ottima squadra, abbiamo avuto un'occasione al 45esimo, potevamo passare in vantaggio, poi il secondo tempo rimanendo in 10 ci è andato bene anche il pareggio, nel senso che nel complesso della partita meritavamo qualcosa di più.